Ciao Internet! Mi succede abbastanza spesso di uscire a parlare di cose normali e infilarmi, alla fine, di incapofitto nel lavoro. Mi è successo anche la scorsa sera. Parlavo con una persona che si occupa di un... di organizzazione eventi, e si parlava di posizionamento. Si parlava in realtà più che di posizionamento di tanti altri corsi, di tanta gente che stava continuando a parlare di argomenti vari ed eventuali. In questo caso GDPR, General Data Protection Rule, il nuovo regolamento della privacy che partirà, entrerà in vigore, in realtà, con la parte di multe, a maggio di quest'anno. E si diceva che è pieno di professionisti che continuano a parlare di GDPR. In un mare di professionisti che parlano di GDPR, aggiungerne uno nuovo che racconta cose, in realtà è ben poco posizionante. Di sicuro non si sarà uno dei primi che se ne parla, probabilmente non si sarà tra i luminari, che magari sono riconosciuti come esperti di quel settore, quindi non si avrà il lustro di un luminare che parla di GDPR. Partendo un po' in ritardo si dà anche, forse, l'impressione di essere partiti un po' per ultimo. Quindi, in realtà, produrre contenuti per il proprio posizionamento, che ha a che fare con GDPR, forse non è l'idea più saggia da implementare per reputazione personale. Diversa, invece, è scegliersi una nicchia. Scegliersi una nicchia non significa fare solo qualcosa che ha a che fare con una verticalità precisa, ma, prendendo un esempio ancora scemo del GDPR, magari raccontare come impatta il GDPR all'interno del mio settore, come impatta il GDPR all'interno dell'organizzazione degli eventi. Questo mi dà un sacco di possibilità in più, per un po' di ragioni. La prima è perché io mi posiziono all'interno dell'onda lunga di un argomento estremamente popolare, come il GDPR, e quindi beneficio di quello che è l'interesse generale verso questo settore. Dall'altra parte, creo contenuti che sono legati principalmente al mio settore di riferimento, e quindi mi posiziono all'interno del mio settore di riferimento, e l'organizzazione degli eventi. In mezzo a tutto questo riesco anche a mostrare una proprietà di competenze che hanno, e che sono forse a cavallo tra una e l'altra. In realtà ho sempre parlato del mio piccolo orticello, della mia piccola verticalità, non del grande argomento esteso, ma i contenuti fanno in modo che probabilmente sarò, non dico l'unico, ma forse uno dei pochi a parlare di quell'argomento nella mia verticalità. Questa cosa fa in modo che chiunque ricerchi anche solo contenuti legati a un macro settore nella mia verticalità, si imbatta nei miei, volente o novente, anche solo per scarsità dei contenuti. Certo, probabilmente ho un pubblico inferiore a quello che avrei potuto avere dall'altra parte, ho un pubblico estremamente focalizzato, legato alla mia verticalità, che mi riconosce una competenza, non solo, se vado avanti abbastanza nel tempo, che riconosce il fatto che io sono la persona da cui andare per capire rispetto a quella particolare specifica problematica. Questa definizione è molto vicina a quella che Forbes dà per Thought Leader, i leader di pensiero, quelle persone ritenute dal mercato, anche dai competitor, le persone di riferimento all'interno di un settore, ed è uno dei modi migliori per posizionarsi, all'interno di una di un framework o di una strategia di reputazione personale. E voi, cosa ne pensate? Me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Sono curioso di leggere la vostra opinione. È lunedì, ed è il giorno giusto per iscrivervi sia al canale YouTube che alla pagina Facebook e, come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati! Grazie a tutti!